Buongiorno a tutti, vorrei aggiornarvi della situazione del coronavirus nella città di Vallefoglia che come comprenderete i sacrifici fatti finora sono importanti, sono ridotti i ricoveri nei reparti infettivi, sono ridotti i numeri del contagiati perché stare a casa vuol dire evitare i contatti con altre persone. In secondo luogo vorrei aggiornarvi che la giunta comunale ha deciso di prorogare i termini per altri 39 mila euro di buoni per le persone che hanno necessità, vorrei ringraziare i dipendenti comunali, la struttura di protezione civile e gli scarabinieri perché in soli due giorni hanno consognato a 250 persone la prima trans dei buoni in spesa. Da oggi partirà la consegna delle mascherine per ogni nucleo familiare, abbiamo istituito un conto corrente sulla protezione civile nella città di Vallefoglia in cui si può donare chi vuole donare per le persone bisognose e contiamo di distribuire tutte le mascherine a tutti i nuclei familiari entro le feste di Pasqua. Vorrei ringraziarvi per tutto quello che è stato fatto, vorrei ricordare che anche per le feste di Pasqua bisogna stare a casa, colgo l'occasione per augurare buona Pasqua, stiamo tutti a casa e chi vuole contattare direttamente il sindaco in questo momento difficile può chiamarlo direttamente al 338-8460-1621. Grazie a tutti.